Bentornati, nuovo appuntamento con SOS Arezzo TV. Siamo al caldo perché a te ti fa freddo. È l'unico posto un po' caldo. Sì, perché qui abbiamo l'operario di vecchi e stravecchi e senza caldo non lavorano. Siamo qui al cantiere del carnevale dell'Orciolaia che è già ripartito. Però siete sempre voi. È già tre mesi che è ripartito. È ripartito da tre mesi. Però portiamo che siamo tre somari e tre briganti. Quanti siete? Quanti siamo a Gambacino? No, le domande erano a me perché io so contare fino a tre. È sempre fresco lui. Attivamente qualche acciacchino l'ha andato. Più che l'ha preso viene andato. Comunque siete al lavoro per il carnevale dell'Orciolaia. Però tutti gli anni tu dici che qui è finita perché i giovani non ci sono. No. Eh sì, per forza, non c'è soluzione alternativa. Se i giovani non vengono, i più giovani siamo noi. Quindi di conseguenza capisci che... Cos'è il più giovane che mi hai detto prima? Eh, sono il più giovane, freddo io. Ah, non sono no? Ai Chialini? Ai Chialini forse. Siamo lì, ci correranno due. Ai Chialini, sì, sì. Però purtroppo la situazione è questa. Poi ci sono quelli che vengono la sera, altri due o tre, però considera che siamo rimasti soltanto in cinque o sei. I giovani hanno il loro lavoro, siamo in doposcena e gli anziani sono... Ma viene qualche giovane e doposcenono? Sì, un paio non più, un paio non più. Quindi mi capisci che il carnevale era arrivato anni fa, quando facevamo via Trarche e Piazza Codomono, a dei livelli abbastanza importanti. Eravamo riconosciuti anche in Italia per essere arrivato, non ti dico, a livello dei grandi carnevali come Cento e Viareggio, però eravamo un gradino al di sotto, però ci difendevamo. Era diventato anche un veicolo di turismo e di attrazione per la città perché venivano pulma da fuori. Oggi invece purtroppo la situazione è cambiata, gente che lavora non c'è più, la città che parte non l'ha colto bene in centro e quindi di conseguenza si è ridimensionato, ridimensionamento va portato a un redimento generale. Pensa che il prossimo anno, nel 2017, sono 50 anni di carnevale, quindi sarebbe anche una bella data. 50 anni a cui io non sono mai mancato. Cioè che già nella prima? Sì, sì, io ero già nel 67, però attivamente posso essere entrato nel 72-73 e quindi sarebbero 50 anni, quindi è una bella situazione che ha abbastanza tradizione nella città, però anche il carnevale in se stesso non è più quello di qualche anno fa. Oggi tutte queste feste, Halloween, cavoli vari, hanno un po'. È sempre il carnevale, quasi. Se guardi la televisione sì, tutte le sere. Se guardi la televisione, perciò a mettere il livello politico è sempre il carnevale. Quindi niente. Il copano è il lavoro del carro politico. Sì, quest'anno purtroppo non si farà. Per niente? No, quest'anno non si farà il trombolino, non ci sono le forze per poterlo fare. E' un carnevale ridotto? No, il carnevale è sempre quello, soltanto che non c'è. Seppure avevamo le idee, avevamo le strutture per poterlo fare, però purtroppo quest'anno non c'è la manodopra per poterlo fare. Peccato, però, che non c'è la manodopra. È peccato, ma allora se non vengono, la prende e non c'è la manodopra. Io le cancello e le hociaperto, ma non viene nessuno. Non è vero, la settimana scorsa l'altro è venuto qui, chiama, 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 c'era la porta giusta, non è entrato perché non l'avevo neanche sentito. Io ci vedo perché qua ne sono solo, qui. Non è simpatico. Ah, questo è vero. C'è il cancello. Ma insomma, perché questi giovani non vengono, secondo lei? Ma non sono attratti. Ma vedo che anche gli altri carnevali soffrono di questa... Magari in Sofoiano c'è una concorrenza tra di loro, è probabile che sia quello lo spirito. Ma qui c'era stata un'impronta una volta, qualche anno, di fare una concorrenza con le porte. Fu detto, con le quattro porte, ma poi credo che nessuno... Quindi quando voi per un motivo o per un altro non lo potrete più fare, che succede a questo carnevalo? Ma spero che qualcuno si faccia avanti. Due, 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 intorno a 50 anni, poco più ci sono. 50 anni, eh. Loro hanno cominciato a venire, pare che avevano 30 anni, sì e no. Ma come ripeto, è sacrificio perché i giovani, come anche in tutte le altre cose, si presentano poco. Beppe, ma non si potrebbe fare, ovviamente con l'aiuto anche del Comune, insomma, un qualcosa che coinvolga le scuole, qualche concorso per costruire... L'abbiamo coinvolto e tanto le scuole, soprattutto le scuole, gli asili e le scuole elementari hanno partecipato, specialmente era la circolazione che si dava da fare in questo, ci dava una mano veramente forte e importante. Con la fine della circolazione purtroppo non c'è più neanche questo contatto qui. e quindi l'amministrazione comunale ha altri problemi, non ha radicato nel territorio come era la circolazione e quindi di conseguenza si è perso anche questa cosa qui che era molto molto bella perché siamo arrivati a tutti i plessi scolastici della zona qui fino al centro via Portabuia partecipavano alla creazione poi non tanto del carro in se stesso ma quanto alle coreografie che facevano i bambini. Quindi era importante, era una partecipazione attiva che purtroppo anche quella oggi non c'è più. E quindi, insomma, senza giovani rischia di morire? Eh sì, penso proprio di sì, senza giovani il carnevale rischia di morire. Il rischio è che il cinquantesimo sia l'ultimo per davvero perché se non c'è un intervento... Abbiamo parlato con l'amministrazione che diciamo che anche l'assessore sarebbe disponibile a valorizzare il carnevale, a farlo rivalorizzare nel periodo in quanto dice abbiamo manifestazione d'estate, è importante, abbiamo la città di Natale, sarebbe bella anche per il carnavale poter fare qualcosa per la città. Niente, vediamo un po' quello che lui è capace a fare e noi se possiamo dare un contributo, a quel punto lì con l'un contributo e basta, se ne può parlare, ma l'amministrazione di sana pianta, noi così come siamo, è veramente ridotto, non ce la facciamo più. Speriamo che qualcosa succeda, ci vediamo domani. Ciao.